Incidente stradale questa mattina ad Agropoli incontrata Marrota nei pressi della rotatoria, un ragazzo di 42 anni è caduto dal suo scooter finendo a terra. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che un'auto gli abbia tagliato la strada. Fortunatamente non è in pericolo di vita, complice anche il casco che indossava mentre era la guida del mezzo. Sul posto i sanitari della Croce Gialla che lo hanno trasportato immediatamente presso il nosocomio vallese per accertamenti. Il giovane ha riportato lievi escoriazioni e lamenta dolore agli arti inferiori e superiori. Presenti anche i vigili urbani del comando agropolese, coadiuvati dal maggiore Cauceia. Non è la prima volta che succede un incidente in località Marrota. Solo un mese fa ci fu un altro sinistro stradale che coinvolse più auto.